C'è la Regione Sardegna, Jazz, Caffè si ispirano nella quinta giornata della Champions Cup over 40 della T-League. C'è la Regione Sardegna in vantaggio, la reazione c'è vicinissimo al pareggio, Jazz, Caffè ancora in avanti con questo tiro alto che poteva sembrare pericoloso. Ancora c'è il gol, il pareggio subito di Jazz, Caffè con Buso Nera. Ancora in avanti, la Regione Sardegna con questo tiro rispinto dal portiere vicinissimo al 2-1. Ancora c'è il 2-1, arriva il 2-1 con Barriotti, 2-1, la Regione Sardegna. La reazione con questo tiro a Filippalo. Ancora c'è la parata, partita rocambolesca. Calcio di punizione, c'è il gol! Il 2-2 pari di Menis, grande punizione. Inizia il secondo tempo con il risultato tra la Regione Sardegna e Jazz, Caffè di 2-2. Partita molto equilibrata. In avanti e c'è il gol! Jazz, Caffè in vantaggio con Deida. Ancora la Regione Sardegna che prova il 3-2 ad accorciare. Ancora, anche c'è il gol! Il pareggio, il pareggio di Crea Regione Sardegna con Arace. Ancora, anche c'è la parata vicinissima al 4-3. Crea Regione Sardegna. Ancora Crea Regione Sardegna che prova in tutto per tutto il vantaggio con questo tiro salto vicinissimo al 4-3. Ancora in avanti e c'è l'appoggio vincente! La rapina! Jazz, Caffè in vantaggio con Ferris! Ancora in avanti, Crea Regione Sardegna. Ancora prova a chiuderla nel Jazz, Caffè. Ancora in questo colpa di testa, la grande parata vicinissima al 4-3. Crea Regione Sardegna. Ma finisce qua! Jazz, Caffè batte! 3-4-3. Crea Regione Sardegna in una spettacolare partita!